salve ragazzi cari amici del web sono andrea bruno il mio giro per la manesia continua sono a kuala lumpur e sto andando ad indagare ad esplorare a mettere le mani in pasta in questo posto meraviglioso sto scoprendo per voi i posti più incredibili impensati io non è che mi fermo agli edifici di facciata mi intrufolo faccio come il ratto di fogna vado nei culicoli scavo vado di sotto vado dietro per cercare i posti più impensati in modo da immortalarmi l'immortalo con la mia macchina fotografica e mostrerò a voi delle immagini veramente entusiasmanti in questo momento mi trovo in uno di questi posti pensati perché qualche vista non ci viene sono esattamente nel retro di un piccolo condominio del centro vi mostro come affrontano gli autotoni la calura in che modo l'affrontano e riescono a vincere questo mostro rappresentato dal clima equatoriale eccoci qua prende in mano la mia macchina fotografica eccoci qua come dal retro come visto dal retro un condominio non so quanto si riesca a capire ecco qua vedete come sono come sono attrezzati questo qua è il plan power è la del sistema per raffreddare il condominio ecco qua c'è un'altra baracca vedete come eccoci qua con questo sistema di raffreddamento si riescono ad ottenere delle temperature decenti all'interno delle abitazioni ok ragazzi continuiamo un po' a esplorare questo retro casa avete bisogno anche di un motorino usato potete venire qua prenderlo ecco qui un po' come si sviluppa la città andando a vedere dietro nelle cose ok ragazzi sono contento di avervi fatto partecipare di questo piccolo paesaggio appoggio nuovamente la telecamera da qualche parte qua per salutarvi ok ciao